Praticamente stiamo facendo la roccaforte. Vabbè, mi cercano. Aspetta, aspetta, aspetta. Ancora? Ma dove è arrivato quella roba di titoli? Ma qui si materializzano le cose a caso? Ma, spostati! Allora, se continui a tornare da guaritore, probabilmente si può anche fare. Perché il problema è che consumo pozioni. Non c'è più tempo. 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 Mi serve più tempo. Muori, che stronto! Non sono preso in linea. Allora. Ma io tornare indietro. Allora. 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 Non posso ancora farlo. E questo si teletrasporta. Ho finito l'energia. Allora. 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 Non è. Allora. 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 ok questa è una strada che abbiamo ripulito in teoria c'è questo e là facciamo qualcosa a questo tizio sembra che quando ti sparo qualcosa in faccia però qua in teoria bisogna pulire ti becchi con la stronzata lì cavolo ho capito io ho capito nooo tornerò alla moda questo è andato fuori modo non ho capito il lavoro tornerò alla moda via ok in teoria non c'è più nessuno avesse questo il buone boh è veleno penso ovviamente ecco le ha creati lui per cui per cui non c'è problema no serve più tempo ok adesso non sono preso dos tutti se scrive uno sull'inzante Ma dai cavolo I do, I do, I do Fuori o no? Oh Oh Wow Più 218 Abilità primaria Danni critici Via Eh, questo con le lame sorpeggianti Che orbitano Mettiamo su questo Però bisogna cambiare la build Bisogna rivalutare Relativo al santuario Aspetta, aspetta, aspetta Ah, non è finita? Questa è la prima fortezza che faccio, quindi Ok, è una cosa da conquistare Ecco cos'è Applausi a me La mia prima roccaforte Allora, Gurro spietato Una creatura tanto crudele Che quei pochi che gli sono sopravvissuti Dicono abbia il cuore di ghiaccio Potrebbe esserci un fondo di verità Dato che anche il calore delle pianure bollenti Congela il suo passaggio Ben sei Tuo fratello Mio zio I nostri amici Sbranati vivi Per arrivare dove? In questo posto Basta Ti prego Basta Oh, farla sentire in colpa Poverino Non dobbiamo capirci Questo è già sbloccato Eh Qui ci sono due secondarie Oh, c'è qualche problema Tre operai sono fuggiti nella notte Hai visto il malcontento? Altri vogliono seguirli Dicono che la miniera è maledetta Sarà Ma noi abbiamo un lavoro da finire Le vecchie superstizioni Dicono che le ossa di Casara Proteggono dalle maledizioni Io non ci ho mai creduto molto Ma se impediranno alla gente di fuggire Le indosserò io stesso Non ho uomini per andare a caccia Ma ho del denaro Sarà tuo se mi porterai delle ossa È un gioco un po' comico Prima vengo ad andare qua C'è che prezzi Ma vabbè Praticamente questa è per ora l'unica cosa che cambia Ma c'è Però che forte Le staccavo Sono già qua questi qua 5 5 Pets 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 Ok Pets 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 c'è l'energia Mio luminoso raggio di luce ho ricevuto la tua ultima lettera da Al-Zuda E l'oro che hai mandato Vorrei che abbandonassi la vita da mercenario e tornassi a casa Averti qua è una benedizione migliore dell'oro Ho tenuto al sicuro la piccola tuia Tuia, tuia dove sei? Piccola tuia Poi siamo già fuori Oh, su kubi Grazie mille anche qua si esce quindi carcasse e tugi ma io volevo vedere la carcassa senza il sacchetto il corpo del ladro di capri è diventato sale denso mancano varie parti come se fossero state mangiate vabbè cazzo e soldi mi pare rubare ok quindi uno l'abbiamo trovato porto la bambola a Tuglia 25 di qua facciamo così facciamo quei due cose li torniamo un po' le consegniamo la gitarra qua ok Sì, sì. 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 In effetti. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì.